ciao e benvenuti in questo nuovo video oggi vi facciamo vedere un'altra schifezza a catto compatibile l'ho costruita con quello che ho trovato in garage materiali che probabilmente dureranno pochissimo sono scatolati da due e mezzo da due e mezzo uno scatolato da sei ritagli di tavole di pannelli per come fondo abbiamo costruito questa schifezza perché avevamo bisogno di un qualcosa di urgente perché ci serviva e ci serve ancora nell'immediato quindi abbiamo fatto in un'oretta di lavoro neanche più che altro ci serviva un mini cassoncino dove poggiare le cose da trasportare col trattore soprattutto le pietre perché comunque uno dei nostri terreni che abbiamo in affitto è una cava di pietre è un buon terreno comunque la terra è bella grassa quindi l'acqua c'è più o meno un ettaro non ci sentiamo di abbandonarlo però il problema sono le pietre quindi ogni volta chiariamo poi prima di fresare dobbiamo spietrare ogni santa volta questa è la terza volta che spietriamo quindi indovinate cosa facciamo oggi cosa vi portiamo a fare con noi oggi spietrare quindi vedrete cosa vuol dire spietrare con questo tipo di oggi oggi giocato compatibile in azienda perché perlomeno non le trasportiamo con la carriola come facevamo l'anno scorso naturalmente sarebbe più comodo un bel carrello possibilmente trazionato ma le nostre risorse economiche non ce lo permettono quindi accattoniamo e facciamo schifezze da utilizzare in azienda comunque volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che ci stanno sostenendo delle piccole donazioni nel nostro conto paypal si presto vi faremo l'unboxing di quello che siamo riusciti a prendere per migliorare il canale con le vostre donazioni e vi ringrazieremo uno per uno e quindi grazie di cuore a tutti e andiamo a spietrare noi non sappiamo se ridere o piangere però voi sono sicura che rideremo sì non piangeremo grazie di cuore a tutti cosa faremo mai a quest'ora sotto il sole? spietraiamo ma sempre bene per la schiena vai amore ah che sono piccole le pietre sono piccole quante volte abbiamo già spietrato? 4-5 3 sono sicura gli altri me le sono perse ok grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti